L'ultima trovata al Rolls Royce è un set di valigie da 40.000 euro. I viaggiatori molto facoltosi potranno scegliere tra la borsa Long Weekender o il modello trolley Grand Tourer. Si tratta di sei articoli da abbinare al colore della propria auto e realizzati in fibra di carbonio e pelle, con cuciture a mano e lo stemma della casa inglese sulle ruote in lega dei trolley. La linea è pensata per i clienti Rolls Royce Raid che costa 300.000 euro ed è stata concepita tenendo conto delle indicazioni delle catene d'alberghi di lusso.